Riparte l'edizione 2020 della campagna di screening oncologici gratuiti Mi Voglio Bene, realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con l'Asla Salerno con l'obiettivo di incentivare l'adesione agli screening oncologici gratuiti. L'iniziativa che l'Asla Salernitana propone ogni anno è finalizzata al potenziamento dell'azione preventiva e informativa, rendendola capillare su tutto il territorio provinciale, avvicinando ed interagendo direttamente con i cittadini utenti. Nella giornata di oggi, 6 ottobre, dalle ore 9 alle 18, ad Agropoli, in piazza Vittorio Veneto, a bordo dell'ambulatorio mobile, i cittadini potranno effettuare un pap test per le donne dai 25 ai 64 anni, prenotare gratuitamente la mammografia per le donne dai 50 ai 69 anni, essere informato sul colon retto per gli uomini e donne dai 50 ai 74 anni. Tutte le prestazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme anti-covid, mentre nei prossimi giorni gli appuntamenti del camper saranno previsti mercoledì 7 ottobre in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania, giovedì 8 ottobre a Sapri, Soccorso Italia e venerdì 9 ottobre nel comune di Polla in piazza Forte.